Sindaco, oggi una buona notizia per quanto riguarda la scuola di Pienodaccio, purtroppo però dall'altra parte abbiamo una cattiva notizia, cioè il trasporto pubblico si è bloccato, non è ripartito, una notizia che avete avuto solo poco dopo le 19 di ieri sera. Sì, ieri sera sono stati in comune fino alle 7, intorno alle 18.45 ci hanno comunicato che il servizio non si sarebbe effettuato perché i sindacati avevano deciso che i lavoratori non dovevano sottoscrivere il contratto. Io mi rendo conto che magari i lavoratori avrebbero subito una riduzione di orario, con una prospettiva però, perché già 60 bambini sono in lista di attesa, vogliono entrare e quindi magari questo gap si sarebbe recuperato. Io non sono assolutamente d'accordo con l'attività dei sindacati su questa situazione, ieri sera sono stato chiamato dal vice prefetto, nella giornata di oggi vedrò quello che dobbiamo fare perché questo servizio possa ripartire. Ripeto, è un momento particolare, è un momento difficile, tutti dobbiamo tirare la carretta dalla stessa parte. Anche perché è fatta la vigilia della ripertura delle scuole, è un disservizio per i cittadini? Fa l'avvertenza? Guardi, vedremo se questo è interruzione di pubblico servizio, ora ripeto, non so, devo un attimino sentire un po' le varie situazioni e capire anche se tutti hanno fatto il proprio dovere, perché anche su questo ho qualche dubbio. Subito pronta la risposta da parte dei sindacati, CGL e CISL, che non ci stanno a sentirsi attribuire responsabilità sul mancato servizio e attaccano il primo cittadino. E il sindaco Brucchi, ad averse mai interrotto un servizio pubblico, a questo punto lo denunceremo noi. Prendiamo dalla stampa e ascoltiamo dalle parole del sindaco che addirittura noi abbiamo proclamato uno sciopero per oggi e che abbiamo condizionato le scelte dei lavoratori. Questo non è vero, ieri sera alle 7 e mezza, alle 19, 19 e 30, tramite l'azienda c'è stato comunicato che i servizi di trasporto scolastico erano stati sospesi per volontà del sindaco e dell'amministrazione. O comunque perché non avevano trovato l'accordo con l'azienda che oggi gestisce i servizi. Quindi oggi dire che c'è uno sciopero proclamato e che c'è stato un intervento dei sindacati a condizionare le scelte dei lavoratori è una cosa totalmente falsa, di una gravità inaudita. Se pensate ai lavoratori che da domani, da quando ricominciano i servizi, avranno a che fare con i genitori, che oggi hanno subito un disagio enorme. A parlare ora è direttamente un lavoratore. Quali erano gli accordi? Gli accordi erano che stamattina noi saremmo stati alle 6 e mezza sul posto di lavoro, quindi per prendere servizio regolare. Non abbiamo avuto comunicazioni se non in tarda serata che il servizio era stato sospeso, quindi da parte del nostro responsabile o comunque da colleghi di lavoro, quindi c'è stato un via via di voci. Quindi nonostante ieri in sede sindacale con l'azienda non è stato preso un accordo per quanto riguarda la riduzione delle ore e dello stipendio, voi questa mattina sareste andati a lavorare? Assolutamente sì, assolutamente sì perché non potevamo soppare un pubblico servizio, quindi coscienti di tutto questo noi ci saremmo tutelati fino alla fine. Quindi avremmo preso servizio stamattina, assolutamente l'accordo era questo, alle 6 e mezza sul posto di lavoro.